Salve a tutti amici di CDK, qui la vostra Ask che vi parla e vi do il benvenuto nel video del 20 aprile dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede da proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti, i link sono tutti quanti iscritti in descrizione e nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco free to play su Steam che presentiamo è Bacon May Die che può essere un gioco molto particolare e divertente ovviamente a scorrimento orizzontale molto diciamo anche da azione di combattimento però ovviamente gratis quindi nel caso comunque potete scaricarlo e giocarlo e insomma divertirvi. Invece altro free to play sempre su Steam è Fit Force che penso possa essere un gioco perfetto soprattutto per questo periodo di lockdown dove vi potete allenare da casa comodamente da casa giocando contemporaneamente quindi assolutamente consigliato anche perché ripeto è gratis quindi se siete curiosi scaricatelo, provatelo e giocatelo. E invece gratis sull'Epic Store c'è The Pony The Complete Journey che è un famosissimo gioco a punto e clic che davvero merita un sacco quindi se non avete ancora giocato fatelo e ricordatevi che ci sono tanti altri giochi che Epic Games sta dando gratis in questi giorni quindi mi raccomando non perdetevi questo gioco e anche tutti gli altri. E invece gratis per chi ha l'abbonamento all'Xbox stava dando Hard Corps Uprising che è un gioco che io non conoscevo ma sembra essere uno di quei classici giochi di platform di combattimento all'esperimento orizzontale molto bellino e interessante perché come stile grafico a me piace tantissimo però se piace anche a voi mi raccomando scaricatelo e giocatelo. Invece il 22 aprile è uscita MotoGP 2021 oh se vi piace in generale il mondo della MotoGP o comunque vi piacciono giochi di corse di tipo competitivo assolutamente consigliato di comprarlo anche perché sul nostro sito già da adesso è super scontato quindi assolutamente non potete perdere anche perché esce dopodomani. Invece il 24 aprile uscirà Nier Replicant che vedo che sta iniziando a crearsi un bel hype perché è il pre-sequel rimasterizzato di Nier Automata quindi se vi è piaciuto Nier Automata assolutamente apprezzerete un sacco questo nuovo capitolo e anche perché sul nostro sito è scontatissimo quindi non perdetelo. Invece il 29 aprile uscirà Total War Rome Remastered anche qui gioco rimasterizzato ma gioco di tipo strategico di management a tema guerra storica assolutamente anche qui consigliato se vi piacciono i giochi del genere e soprattutto dipende dal nostro sito perché anche qui è scontato del 31% quindi non perdetelo. Invece il 30 aprile uscirà R-Type Final 2 che è il nostro gioco che stiamo conoscendo proprio in questi giorni anche qui di combattimento diciamo FPS a scorrimento orizzontale molto molto particolare e soprattutto controllate gli sconti sul nostro sito perché sicuramente verrà scontato nei prossimi giorni quindi non perdetelo. Invece per i giochi super scontati abbiamo il nostro famosissimo Sea of Thieves che assolutamente una volta nella vita l'avete visto o comunque l'avete giocato quindi davvero consigliato di provarlo online con i vostri amici anche perché sul nostro sito è quasi scontato della metà quindi mi raccomando non perdetelo perché davvero merita un sacco. Invece altro gioco super scontato a poco meno di 9€ è Interstellar Space Genesis che anche qui è un gioco di management e di strategia questa volta è tema spaziale quindi se vi piace il mondo spaziale o comunque giochi del genere anche qui consigliatissimo perché è scontato del 70% quindi assolutamente un prezzo stracciato. Invece altro gioco molto particolare di cui avevamo parlato un po' di tempo fa e Don't Escape 4 Days to Survive che sta letteralmente a 32 centesimi cioè pochissimo e se volete giocare a un punto e clic di investigazione e anche un po' horror molto particolare assolutamente consigliato perché 32 centesimi è letteralmente regalato quindi davvero merita un sacco. Ultimo ma non importante Under Hero anche qui pochissimo solo 55 centesimi se volete giocare un platform molto particolare e divertente assolutamente consigliato di giocarlo perché è davvero molto bello. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo le mie ripresentazioni del 20 aprile io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo nella prossima presentazione dei giochi e vi aspetto sul mio canale Twitch. A presto, ciao ciao! Ciao!